Pensi di essere un tipo schizzinoso? E se mangiassi soltanto cibi di un colore specifico come il verde o l'arancione? Beh, non ti dovrai più soltanto immaginare come sarebbe, perché stai per scoprire che cosa significa mangiare soltanto cibi dello stesso colore. Se solo potesse essere sempre cioccolato, non sarebbe perfetto? In un esperimento così pazzesco tutto potrà succedere. Ok, Lana, penso che questa ti piacerà. È un'enorme aragosta. Artigli, occhi e tutto. Non è viva, vero? Non è divertente, Vicky? Ok, è meglio provarci almeno. Non penso che ci sia altro modo per rompere il guscio, se non con i denti. Oh, ma questo guscio è durissimo. Ehi, ma non ti hanno mai detto di non giocare con il cibo? Ups, questo non sta andando come doveva. Oh, scusa. Ecco qui, piccoletta. Ehi tu, puoi aprire gli occhi? Ehi, broccoli, mica male? Beh, a meno che non ti facciano schifo. Certo, i broccoli sono comestibili, ma sono buoni? Onestamente no, non credo proprio. Forza, Vicky, mangia le verdure. Non sei mica mia madre. Immagino che però non mi faranno del male. Accidenti, all'improvviso sento un'ondata di niente nello stomaco. Vigo. Ok, Vicky, ce la fai, ce la fai. Ma è una pianta di aloe vera? Oh, ma non potevi essere sedano. Che esagerata. Ok. Sì, questo è proprio per te, amica mia. Va bene. Vorrei tanto poterci aggiungere del burro di arachidi. Dovrò farcela. Oh, sì. L'aloe vera è piena di gel molto appiccicoso. Adesso capisco perché si usa soltanto per le scottature e non per altro. Ea, brucia! Dai che questa volta non potrà essere poi così male, Lana. Patatine aranciata. Come lo sapevi che questo era il mio spuntino preferito? Ma come sono felice di mangiarmi tutta quella roba. Sei la migliore, Dick. Ehi, a che ti serve quel frullatore? Aspetta, questa roba mi piace così com'è. Non devi frullarla. Da qui. A meno che tu non voglia vedere un'esplosione di vomito, non farlo a casa. Beh, questo sì che è un gran pasticcio tutto arancione. Accidenti, non la vedo bene. Se non avessi saputo la verità avrei pensato che fosse solo aranciata. Tutta tua, Lana. L'odore è esattamente quello che dovrebbe essere. Che schifo. Occhio, sta per esplodere. Cacchio, spero che il sapore sia meglio dell'aspetto. Il mio stomaco sta brontolando, significa che è ora di mangiare. Ma cosa posso fare? Ehi, ma è il menù di quel nuovo posto in fondo alla strada. Wow, guarda tutto quel cibo. Ok, deciso. Stasera ordiniamo a portar via. Ciao! Ciao, vorrei fare un ordine per favore. Sì, inizieremo con un'insalata, tanta salsa. Uh, e i capperi. No, niente panino. Prendiamo gli orsetti gommosi. Va bene, ho segnato. E due hamburger. Niente carne, sottacetti extra. Ahà. Ok, sarà tutto pronto in un attimo. E poi aggiungine un altro, ma senza carne. Bene, puoi togliere il cioccolato. Pronto? Pronto? Oh! Ti avevo detto che ci avrei messo un attimo. E ho fatto un ordine speciale solo per voi, tipi esigenti e schizzinose. Questo sì che è fast food. Sasso, carta, forbici. Ahà, vince sasso. Occhi. Mi stai prendendo in giro? Pensavo che Halloween fosse finito da tempo. Ehi, e tu pensi che i veri bulbi oculari siano morbidi come questi? Ehi, ho sempre voluto avere gli occhi verdi. Va bene, va bene, dammi quei cosi. Chissà di cosa sono fatti. Sa di zucchero. Vabbè, io vado avanti e apro il mio. Accidenti! Ok, ma questi non sembrano affatto carini come quelli di Emily. Ma sono altrettanto morbidi. Sono solo io questa cosa ha un odore molto simile al formaggio. Ehi, e c'è un'oliva! Buono! Chissà se gli occhi sono veramente così salati. Cin cin, alla salute! Mmm, questa salsina non è male. E chi è che non ama la mozzarella? Emily, perché non dai un assaggio ai tuoi occhi? Oh, la parte bianca sa di cocco. E ha un ripieno alle ciliegie. Ok, basta. Ora mi mangio tutto in un solo boccone. La colazione è finita e andiamo oltre. Chi va per prima? Facciamo la conta con Ambarabacicciccocco. E sembra che Emily abbia vinto. Ah! È un gigantesco verme gommoso! Questo coso non è vivo, non è vero? Cavoli, ma è enorme! Devo mangiarlo tutto? Oh, è così viscido! Maledizione, ho i brividi solo a guardarlo! Immagino sia il momento di vedere cosa c'è lì sotto. Non voglio guardare! Beh, lo solleverò io per te. Non riesco a guardare! Aspetta, e questi? Ma sono veri vermi! Penso che in realtà siano spaghetti con del sugo. Qualunque cosa sia, non sembra buono. Bene, signore, cosa state aspettando? Dateci dentro! Sì, hai davvero coraggio, come ci riesci! Wow, nessuno ha detto che dovevi riempirti la faccia! Se chiudo gli occhi, posso far finta che sia un delizioso piatto di spaghetti! Non riesco a guardare, altrimenti mi viene la nausea! E improvvisamente questo gigantesco verme gommoso non sembra poi così male. Beh, almeno ci provo! Ehi, sembra buono! Pensi che potrei averne un morso? Non ci pensare nemmeno, ok? Molto divertente, Emily! Oh! Chi mangia insieme vince insieme! Non male! Non credo che lo siate! Non riesco a mangiare ancora! Ecco, prendili! Ah, bene! Me li divoro! Bene! Sembra che il mio lavoro qui sia finito, almeno quasi! E non dimenticarti la mancia! Wow! Ma è il costo del mio affitto! Paga tu! Acchio! Ma non me lo posso permettere! Ma non mi dovevi una cena? No, ti ho rimborsato, ricordi? Ragazze, non potete scambiarvelo come una pallina da tennis! Qualcuno qui deve sborsare il denaro! Questa cosa potrebbe andare avanti all'infinito! Ci vediamo la prossima volta, ragazze! Wow! Ma è una torta così deliziosa! Fragola, lampone, ciliegia... Chissà come sarà! Ehi, non hai nemmeno guardato la scheda ancora! Signore e signori, scoprite le vostre schede! Sì, assaggerò quella deliziosa glassa rosa! Deve essere il mio compleanno, perché morderò io quella bellissima torta! E sfortunatamente questo significa che Kevin non ottiene nulla! Ci spiace! Scusate, ma sto solo portando questa cosa più vicina al mio lato del tavolo! Ehi, penso che tu debba dare soltanto una leccata, Vicky! Vediamo dove c'è più glassa! Wow, ti sei davvero tuffata in quella cosa, non è vero, Sofia? Ehi, posso dare un morso, per favore? Ti prego! Certo, Kev, è tutta tua, amico! Boom! Oh, Kevin, non te lo aspettavi, vero? Ehi, nessuno ride di Superman! Beh, te lo sei meritata, Sofia! Ehi, ma qualcuno può pulirmi gli occhiali, non riesco a vedere niente! Cibo umido per cani! Accidenti, odora proprio come cibo per cani! Senza ulteriori indugi e tempo di distribuire le schede! Sì, è il giorno più fortunato della mia vita! Oddio, devo mettere la mia lingua su questa roba, ho già la nausea! Non può essere vero! Ok, Sofia, puoi farcela, puoi farcela! Ma dobbiamo per forza guardare? Presto, sta per esplodere! Oh, cavolo, ma perché devo tenere io il secchio? Sai di cane! Beh, meglio farla finita adesso! Perché sa di fagioli andati a male? Beh, sarebbe potuta andare peggio! Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Che cosa c'è che non va in te, Kevin? Grazie a tutti